Mi chiamo Elena, ho scelto di scrivermi al corso di yoga facciale perché sono anni che seguo Petra e il suo metodo viso in forma attraverso i social e questa disciplina olistica così naturale, efficace ma non invasiva mi ha sempre attirato molto. Sono veramente molto soddisfatta del corso in quanto è stato strutturato veramente benissimo. Petra è un'insegnante attenta e precisa, mi ha seguito moltissimo, è stata attenta che eseguissi gli esercizi alla perfezione e io partivo da zero e nonostante questo non ho avuto assolutamente alcuna difficoltà, infatti i materiali che ci ha fornito erano veramente di facile comprensione. Mi ritengo molto ma molto soddisfatta di questo corso e non vedo l'ora di insegnarlo alle mie clienti. Grazie di tutto Petra, veramente!